Una delle prime uscite ufficiali per entrambi a Erzelli, il significato di questa giornata? Io sono tornata chiaramente, mi ha fatto piacere essere qui con il magnifico lettore nella sua prima visita. Chiaramente è stato importante vedere tutta quella che è la struttura, tutte quelle che sono le potenzialità di Ligure Digitale sia per tutti i servizi esterni che può portare, abbiamo visitato tutta quella che è la parte di impegno per la sicurezza dei dati dove credo ci possa essere una grande collaborazione con l'Università di Genova e credo che questa prima visita del Rettore sia proprio improntata a questo, quindi ha un grande spirito di collaborazione che può essere su tanti fronti. Quindi partire dall'aspetto digitale credo che sia importante per il momento che stiamo vivendo. Non a caso ci siamo impegnati anche a vedere le potenzialità che possono essere impegnate sulla didattica, quella universitaria, quella scolastica, perché chiaramente quello delle lezioni a distanza è un tema che ci accomuna e i progetti che potremo portare avanti sono sicuramente tanti nell'ottica chiaramente di una collaborazione che poi deve essere nel senso del diritto allo studio, delle prospettive che dobbiamo dare ai nostri studenti rispettando chiaramente le vocazioni del nostro territorio, ma non dobbiamo smettere di pensare al futuro dei nostri ragazzi. Il tema della digitalizzazione oggi è centrale per una gestione di un'emergenza. Finita l'emergenza, quindi guardando al futuro con speranza, sarà fondamentale anche per il rilancio, per lo sviluppo di questo territorio. Credo che la partnership regione, Liguria Digital, l'università comune, possa portare ognuno col suo punto di vista, ognuno col suo bagaglio culturale, con le sue idee, sviluppo e l'università può giocare una partita importante. Ci sono competenze forti in tema di digitalizzazione al nostro interno e se lavoriamo in squadra, e sono convinto che lo faremo perché ci sono ottimi presupposti per farlo, troveremo anche grandi soluzioni e troveremo anche risultati che potranno offrire anche opportunità di lavoro qualificato per i nostri giovani laureati.